Il dibattito è stabilito. Dobbiamo trasformare il nostro sistema energetico senza il carburante fossile, tagliare le emissioni per l'effetto serra, muoverci verso l'efficienza energetica, muoverci verso l'energia sostenibile. È impressionante la scienza, è travolta da domande. La scienza è investita da sospetti, travolta da cosa esattamente? L'energia viaggia dal Sole sotto forma di radiazioni infrarosse e ad onde corte. Alcune non possono attraversare l'atmosfera terrestre, mentre molte altre si vengono assorbite dalle terre e dagli oceani che si riscaldano. La Terra riflette indietro questa energia sotto forma di radiazioni infrarosse ad onde lunghe, ma i gas dell'atmosfera terrestre, chiamati gas serra, trattengono alcune di queste radiazioni. Funzionano come un'invisibile coperta isolante attorno alla Terra. Si tratta di un effetto perfettamente naturale. Se non ci fossero i gas serra, la temperatura globale della Terra si abbasserebbe di 20 o 30 gradi centigradi rispetto a quanto è adesso. Probabilmente è troppo fredda per la sopravvivenza della vita sulla Terra. Il diossido di carbonio è uno dell'effetto serra che si trova nell'atmosfera in quantità naturale, ma da un po' di tempo gli scienziati discutono che la quantità extra del diossido di carbonio prodotto dalla combustione di combustibile deposita. Fa sì che la coperta di isolamento attorno alla Terra abbia troppa efficacia. Significa che può uscire meno energia all'esterno nello spazio. Così l'energia intrappolata riscalda il clima della Terra e si creano cambienti climatici. In questa presentazione vedremo la scienza non è fuori. Esistono dei fatti e la discussione non è finita. Loro sarebbero felici che la discussione fosse finita, ma come possiamo vedere è ben lontana dall'essere finita. I dati raccolti sono stati travisati, falsificati e si collegano con il riscaldamento globale, col cambiamento climatico. Questo non è vero e va detto che il cambiamento climatico è un inganno. Potrete vedere tante correlazioni, tanti collegamenti col cambiamento climatico e la Terra piatta. Perché si collegano con la Terra piatta? Col riscaldamento globale? Perché collegano la Terra piatta col cambiamento climatico? Vedremo il collegamento fra la Terra piatta ed il cambiamento globale. Ci sono troppi dati che stanno arrivando, i quali ci permettono di vedere che questo cambiamento climatico non è altro che una bugia e ci sono tante cose da comprendere. Questo è qualcosa di importante. Svegliatevi, cercate di capire che vi hanno mentito. Questo deve cambiare. È scienza? Sono fatti? No. Sono bugie. Grazie, senatore Koons. Gardierei tornare brevemente indietro al signor Mayer. Nella vostra testimonianza scritta avete detto che la scienza è dietro al cambiamento climatico ed i suoi effetti riguardano la minoranza della comunità, ma non c'è bisogno di discutere. Io sono curioso di sapere se il Club Sierra ha queste frequenti abitudini di dichiarare che alcune aree della scienza non hanno bisogno di essere discusse sulle considerazioni di quello che l'evidenza di dati dimostrano. Se confida sull'evidenza di dati, lei sa che la scienza è la preponderanza delle evidenze si trovano là. Ma questa è una cosa diversa rispetto a dire che non può essere discussa. In una domanda il Club Sierra ha dichiarato che questo argomento scientifico è stato risolto e che non possono esserci dibattito. Loro presuppongono che le evidenze preponderanti della scienza sono a posto e non c'è alcun motivo, senatore, per discutere sui dati. Non possiamo discutere nulla. Ma lei sa, ha notato che anche la parola preponderante dell'evidenza ha avuto l'intervento di parecchi avvocati per molti anni, il che significa il 51%, almeno il 51% è quello che significa preponderante. Voglio chiedere, per esempio, se si vuole finire il dibattito, lei non vuole dedicarsi ai fatti, come è possibile non affrontare il discorso che negli ultimi 18 anni i dati forniti dai satelliti non dimostrano alcun effettivo riscaldamento? Signore, io devo fare affidamento all'Unione degli Scienziati Interessati, devo fare affidamento nuovamente sulle nostre evidenze non ufficiali, ma i dati si trovano là. È corretto che i dati dei satelliti da 18 anni dimostrano che non esiste un riscaldamento significativo? No. E perché non è corretto? Secondo i nostri esperti, è stato rifiutato molto tempo fa e non è più disponibile per un dibattito scientifico. Sono curioso, vorrei capire, voglio, trovo questo molto interessante che quando chiese al presidente del Sierra Club quanto i satelliti dimostravano riguardo al riscaldamento, apparentemente ha fatto affidamento allo staff e la cosa sul riscaldamento, la cosa bella sui dati dei satelliti è che si tratta di numeri oggettivi, corretto, e i numeri degli ultimi 18 anni, è per lei familiare con la frase stallo? La risposta è sì, ed essenzialmente restiamo nella nostra posizione. Lei sta dicendo che è familiare con lo stallo e che cosa si riferisce a farlo da stallo? Mi scusi, ma credevo che per lei fosse familiare questo termine, pertanto chiedevo a che cosa si riferisce. Quindi, essenzialmente c'è un lento riscaldamento globale da 40 anni, signori, da 40 anni. Non è che il termine allarmistico del riscaldamento globale è stato usato per giustificare l'inconveniente verità, per usare la frase popolarizzata dell'ex presidente Al Gore, che i satelliti negli ultimi 18 anni non hanno mostrato alcun significante riscaldamento globale. L'armistico del riscaldamento hanno chiamato questo stallo, perché i modelli dei computer dicono che non esiste alcun drammatico riscaldamento, e gli satelliti attuali rivelano misurazioni che non mostrano alcun significante riscaldamento. Ma, senatore, il 97% degli scienziati concludono in accordo che esiste un riscaldamento globale, l'impatto antropogenico. Il problema con questa statistica, di cui si è parlato molto, è che si basa su studi finti, ed inoltre la vostra risposta indica, il vostro risponso è abbastanza impressionante, e sto chiedendo sulla scienza e sull'evidenza dei dati attuali. Abbiamo i satelliti che misurano le temperature, e questo dovrebbe essere rilevante, ma la vostra risposta è stata non prestate attenzione alle linee chiare e ai numeri che mostrano i satelliti. Ascoltate invece gli scienziati che ricevono enormi sussidi, che ci raccontano che non dobbiamo discutere la scienza. Signore, questo è un passato nazionale dell'America che abbiamo dibattuto, e dove il 97% degli scienziati hanno già deciso. Il 3% hanno già investigato sulle industrie automobilistiche, ma il nostro pianeta si sta cuocendo e riscaldando, e questa è una delle ragioni per cui è la posizione del Club Sierra, è che proprio ora la Terra si sta cuocendo e riscaldando, e questo è quello che è il Club Sierra. Voglio sapere che concordo con il 97% su quello che ha deciso il mondo scientifico nei riguardi del riscaldamento globale, con effetti antropogenici dell'umanità nei riguardi del clima. Ma signore, può rispondere alla domanda se la posizione del Club Sierra è in grado di testimoniare che la Terra si sta cuocendo e riscaldando proprio adesso? E questa è la posizione del Club Sierra? La temperatura globale sta aumentando, signore. Quindi si presume che il Club Sierra farà una emissione pubblica di aritrazione, una volta confrontati i fatti, dove i dati sono precisi nel descrivere che negli ultimi 18 anni non ci sono stati significativi riscaldamenti, e pertanto per quale motivo gli allarmisti del riscaldamento globale hanno inventato la parola stallo per spiegare quello che chiamano lo stallo del riscaldamento globale, visto che i dati dimostrano che quello che avete detto, ovvero che la Terra sta cuocendo e si sta riscaldando, non è sostenuto dai dati. Resto in accordo con il 97% degli scienziati che assolutamente dicono l'opposto, signore. Quindi se i dati sono contrari rispetto alla testimonianza del Club Sierra, dovranno ritirarli? Signore, noi concordiamo con il 97% del consorso scientifico nei confronti del riscaldamento globale. Vorrei ripetere... Un momento, un momento. Desidero ripetere nuovamente la domanda e ricevere una risposta. I dati sono contrari alla vostra testimonianza? Il Club Sierra farà una rifrazione? Noi siamo d'accordo con il 97% degli scienziati che credono sull'impatto antropogenico dell'umanità nei riguardi del riscaldamento globale. È vero. Questo significa che non vuole rispondere alla mia domanda? Noi siamo d'accordo con le evidenze preponderanti della scienza e del 97% e se mi chiede del 3% o del 97% io... No, no, non sto chiedendo sull'indagine fra gli scienziati, sto chiedendo sull'eggettività dei dati, dei numeri. Gli scienziati fanno affidamento sui loro dati oggettivi e delle loro analisi. Il 97% sono d'accordo e concludono che il riscaldamento globale è verosimilmente effettivo. Mr. Meyer, trovo questo impressionante per la pubblica organizzazione politica la pretesa di focalizzare esclusivamente il problema ambientale dove non si vuole dire a questa commissione che potrebbe fare una ritrazione qualora il vostro testimone fosse oggettivamente falso secondo i dati scientifici. Questo minerebbe qualsiasi credibilità di qualsiasi organizzazione se lei persiste nella sua posizione politica indipendentemente da quello che dice la scienza, indipendentemente dai fatti, indipendentemente dalle evidenze, indipendentemente dai dati e che non ha consistenza. Suggerisco sul metodo politico. Signore, lei può prendere quello che vuole, tutti i dati che desidera, ma io concordo con il 97% degli scienziati dove dicono che il riscaldamento globale è un fatto. Chiuso. Grazie signori, voglio solo farvi osservare che abbiamo un'ampia rappresentanza ed un gruppo qualificato di persone che sono arrivate qui per parlare su una regolamentazione sull'impatto di una minoranza della comunità. Non voglio parlare ovviamente del Club Sierra, ma è mia esperanza ed aspettativa che se segue questa linea d'inchiesta nei loro confronti saranno contenti di questo, ma la mia ipotesi è che bisogna focalizzarsi sul soggetto dell'udienza. Sono ovviamente d'accordo con il senatore Cunsa, voglio far notare che il senhor Maier nelle testimonianze scritte e nelle testimonianze orali si focalizza su parti significative dell'amministrazione Obama e le nuove regolamentazioni del riscaldamento globale che hanno un costo superiore a 10 milioni di posti di lavoro con imposizioni di costi per i consumatori americani. Qui si discute sul supporto dei dati che causano a milioni di americani di perdere il loro lavoro, inclusi afroamericani, dispanici. Io faccio pressione sui dati di cui si è testimoniato e voglio far notare che non è solo rilevante per il testimone, ma è anche stato, è uno stato sull'intero soggetto del testimone e adesso sembra che il testimone non si basi sui dati o sulle evidenze e non è preparato per discutere dati o evidenze oltre ad asserire su come dobbiamo lavorare. Con questo voglio ringraziare i testimoni di essere qui, grazie per esservi uniti a noi. Continuiamo a tenere l'udienza registrata, l'udienza per i 5 argomenti supplementari dei prossimi 5 giorni che si chiuderà l'attività martedì 13 ottobre 2015. Grazie veramente a tutti i testimoni, l'udienza è aggiornata. Roy Spencer è un climatologo dell'Università dell'Alabama, scettico che sia l'uomo la causa del riscaldamento globale. Per discutere abbiamo qui una sedia vuota. Abbiamo chiesto a dozzine di scienziati che si preoccupano che sia l'uomo a causare il riscaldamento globale per discutere con Ray, ma hanno rifiutato. La gente scherzava anni ed anni fa sulle persone che dimostravano che la Terra era piatta e per un lungo periodo di tempo le persone argomentavano che la Terra era piatta nonostante le evidenze degli astronomi e gli esploratori. Evidenze che erano esattamente l'opposto. In effetti abbiamo il massimo rispetto per il cambiamento climatico oggigiorno in America. Cosa sia fondamentalmente il Comitato dei Flat Earth? Un gruppo di persone di cui alcuni di essi fanno parte dello stesso congresso degli Stati Uniti e che ancora disputano contro la scienza. Tutte le evidenze. Loro discutono dicendo che non conosciamo abbastanza sul cambiamento climatico oppure affermano che le evidenze sono sufficienti o semplicemente dicono che si tratti di un inganno di cui fanno parte i membri del Senato degli Stati Uniti dimostrano che è un inganno. Voglio essere chiaro. Voglio lavorare con chiunque repubblicani, democratici, indipendenti, libertari, verdi con chiunque per combattere questa minaccia a favore dei nostri bambini. Sono aperto a qualsiasi nuova fonte di idee magari idee migliori per essere certi che abbiamo a che fare col cambiamento climatico per promuovere lavoro e crescita. Nessuno monopolizza quello che è un grande problema. Ma non ho abbastanza pazienza per quelli che negano che questa impresa è vera. Non abbiamo tempo per un incontro con la società dei flat earth. Ok, andiamo avanti. Fatemi una bonda. Hai in programma un incontro in occasione della visita del Papa a Filadelfia? Il Papa crede all'escalamento globale? Io non so. Il Papa e molti leaders mondiali conoscono qualcosa. La terra piatta. Se osservate gli Stati Uniti potete vedere la terra piatta chiaramente in mostra con i 33 gradi dei massoni. Ci hanno mentito una volta compreso che la terra piatta ed il cambiamento climatico sono collegati. Comprenderete comprenderete davvero che questo mondo non è quello che ci hanno indotti a credere. All'inizio potete pensare che sia pazzesco ma se guardate dentro ai fatti lo scoprirete. In realtà le cose sono vere. L'elite mondiale i migliori scienziati in media ci hanno mentito per generazioni. Il cambiamento climatico è una delle grandi menzogne di questo mondo. Cambiamento climatico. Se date un'occhiata alla Bibbia lo vedrete chiaramente. Lo spazio l'universo il Big Bang e tutto quanto hanno insegnato è una menzogna. Posso saltare dentro questo Bob hai appena detto che la terra è piatta da sempre e questo è il motivo per cui il dibattito sul cambiamento climatico è disintegrato. Nessuno se ne cura più perché Al Gore traffica con isterismo e panico. Il pubblico americano soffre la fatica del panico. Possiamo avere un dibattito su questo? Non ci sarà alcun dibattito perché chiamate persone come me terrapiattisti. Sono terrificati dalla possibilità che il segreto trappeli. Sono abituati al cambiamento climatico. Sono abituati al Big Bang all'evoluzione. Noi siamo speciali. Siamo stati creati in un sistema chiuso. Tutte le loro bugie le riporteranno indietro al Big Bang seguito da tutte le cospirazioni che seguiranno tutte le menzogne dell'elite dei media dello scientismo religione. La religione di oggi nessuno vuole argomentare dicendo che le cose sono fatti ma in realtà sappiamo che non è così. Perché ci vogliono nascondere che non può essere vero? La Terra non è quello che vi hanno raccontato. Non abbiamo noi tutti ruotato quel globo nelle scuole da quel grande globo fin dall'età in cui siamo stati indottrinati nel sistema del mondo e bugie vanno avanti. Dobbiamo capire questo. Capire che questo mondo chiamato casa non è quello che ci hanno indirezzati a credere. Dio ci ha creati in questo sistema chiuso. Non c'è alcun pericolo del cambiamento climatico nessun pericolo di riscaldamento globale. Tutte queste cose sono state inventate per rendere schiava la popolazione per creare più tasse sveglia è tempo di comprendere la verità della Terra piatta. 1500 anni fa tutti sapevano che la Terra era al centro dell'universo. 500 anni fa tutti sapevano che la Terra era piatta e 15 minuti fa sapevi che le persone erano sole su questo pianeta. Immagina quello che saprai domani. Sono per le innovazioni nuove tecnologie innovative il gas naturale ha abbassato i prezzi che equivale all'abbassamento di un dollaro e 39 sono per l'innovazione voglio chiedere al presidente che al momento sembra faccia parte della società piatta del Club Sierra c'è un grande numero di persone 30 anni fa le persone pensavano secondo gli scienziati che il pianeta si stava raffreddando non riscaldando ed ora improvvisamente i scienziati tagliano il vertice ascolti è Canard che dice che esiste un congresso totale degli scienziati sul riscaldamento globale non è vero che è Sì, 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 sì. Vogliamo discutere anche che la Terra è piatta? Nei recenti studi condotti dalla Fondazione Nazionale di Scienze, un americano su quattro crede che è del Sole e tutto il resto nello spazio gira attorno alla Terra, e non quello che dice la scienza moderna. Credere in quello che è chiamato il geocentrismo è abbastanza stupido in questo momento. Dare a Galileo, Copernico e Keplero hanno smentito questo 500 anni fa. È così sensato come credere nell'Oieti, un rettile dell'illuminato, e chiunque lo prende seriamente come persona dal pensiero moderno rifiuta facilmente il geocentrismo, completamente. Lo stesso si può dire di chi rifiuta il cambio climatico. Oltre il 97% degli scienziati concorda che il riscaldamento globale è vero e che l'umanità ne è la causa perché usa il carburante fossile. Non c'è alcun dibattito. Il cambiamento climatico è un fatto come la Terra che gira attorno al Sole, è un fatto che chiunque dice l'opposto va trattato come una persona pazza, per quello che sono. Il programma satanico è in voga da centinaia di anni, da Copernico, dai massoni, dall'elite. ci hanno mentito, ci hanno ingannati. L'intero sistema, l'universo, le galassie, i pianeti che orbitano, tutto, le fotografie false che la NASA ci mostra, le loro bugie, ci hanno indotti a credere che il nostro mondo è qualcosa che non è. Se si capisce la Terra piatta, si comprende il collegamento col cambiamento climatico. Continuiamo per capire perché questi collegamenti esistono con chi crede in questo modo. È da scemo credere in questo modo? Avete guardato dentro la verità? Avete fatto abbastanza ricerche per conoscere? Prima di giudicare qualcuno, almeno fate delle ricerche. Capirete che la Bibbia è molto chiara. Se affermate di essere cristiani, o seguite Gesù, o siete un letterato della Bibbia, capirete questi versi. Gesù è 10, 12, 13. È chiaro. Il Sole è fermo. Ci hanno raccontato che giriamo attorno al Sole. Questa non è la verità. E se fate le ricerche, capirete che la Terra è stazionaria. Questo è il geocentrismo, il modello geocentrico. Osservate, comprenderete che il modello elio-centrico è una menzogna. Tutte le loro bugie, dal cambio climatico, dall'evoluzione, fino al Big Bang, l'intero universo che è stato costruito è una menzogna. È per rendere schiave le masse. sveglia. Cercate di capire che viviamo in una matrice e che Dio è vero. Cerchiamo di andare verso il futuro. Loro vogliono che siamo bloccati nel passato. Abbiamo già sentito queste cose prima. Voglio raccontarvi qualcosa. Se qualcuna di queste persone si fosse trovata quando Colombo pianificava la traversata, l'avrebbero marchiato come un membro della società di Flat Earth e non avrebbero creduto che il mondo fosse rotondo. La verità è che credono nella nuova superstizione, ma c'è il riscaldamento globale che rimpiazza la religione, quella che hanno perso e per quelli che non hanno niente in cui credere, che hanno la passione su questo in assenza di religione. Sono molto rilottanti di discutere perché è come andare a sfidare quello che non è. Se ci basiamo sulla religione è semplicemente una fede, ma che non può succedere in una decente religione. Sono inebetiti, ma nello stesso tempo sono terrorizzati di incontrare qualcuno che sa la scienza, che conosce e non possono dire mi scusi, ma l'impero veramente non ha personale, anche se tanti scienziati o burocrati o politici che si possono allineare i quali giurano ciecamente perché si tratta di un profitto o convenienza o parlano di fazioni di cui mentono loro stessi. E questo è vero. E alla fine solo la verità è il valore della nostra intera divisione e la paura del riscaldamento globale fondamentalmente non è vera. Il diossido di carbonio è un gas naturale che ha dominato l'atmosfera per un periodo straordinario di lunga data ed ora ci troviamo in un pericoloso basso livello. se avessimo una quantità di diossido di carbonio nell'atmosfera non potremmo avere piante terrestri. Il diossido di carbonio è il cibo per le piante, non è inquinante. Per anni lo abbiamo trattato come inquinante, ma il diossido di carbonio è stato ingannevole e fallace. Io non sono qualificato per discutere con un climatologo, ma perché vuole discutere con Roy Spencer? Non è un idiota. Ha aiutato a produrre i dati che il governo usa per le temperature atmosferiche. Non sono un politico. Sai, sono qui perché mi avete chiesto di venire qui a parlare di scienza e sono completamente felice di fare questo ogni volta che me lo chiederete. Fatemelo telefonate ed io verrò qui a parlare di scienza e vi indicherò la giusta direzione. Ti opponi implacabilmente sul concetto che l'uomo sia la causa del cambiamento climatico. Perché? Per le evidenze. Esistono centenaia di fatti che influiscono sulla temperatura globale. Qualsiasi cosa dall'inclimazione dell'asse di cicli oceanici del vapore acqueo del metano del sistema solare del sole la ritorazione delle nubi la polvere dei vulcani l'idea che il CO2 sia la coda che muove il cane non è più supportabile. E se si guarda la letteratura scientifica si trovano margini di dati e studi di revisioni tra pari i quali mostrano che periodi medievali e romani erano più caldi di oggi senza emissione di CO2. Quello che succede qui è che tutto il movimento è perché sono 16 anni che non abbiamo riscaldamento globale secondo i dati delle Nazioni Unite e non abbiamo più clima estremi ma abbiamo l'estremo spettacolo delle persone che asseriscono che gli atti del congresso delle Nazioni Unite è in grado di controllare il tempo e fa sì che gli uracani siano meno frequenti e fanno in modo che i tornados siano meno frequenti ma nessuno mostra un andamento che non sia per niente inusuale. Ok, vuole rispondere? Bene, iniziamo a parlare di fatti. il periodo medievale romano di riscaldamento era solo in Europa e non è rappresentativo. Vediamo se possiamo essere d'accordo su un paio di cose. È d'accordo che quando ero ragazzo e lei era ragazzo c'erano 340 parti per milioni di ossido di carbonio in l'altro passato? Certo, di ossido di carbonio, Roger, qual è il punto? Questo è il punto è che è aumentato in modo estremamente rapido. Questa è la differenza fra quei giorni e da adesso. Non è stato mai così nella storia. Lasciamolo finire. Questo è il ritmo della grande preoccupazione più dell'attuale quantità. Può mostrarci questo ritmo sul tavolo? È sempre l'attività dell'uomo. Questo è quello che dico dal lungo tempo. Se guardiamo nel ghiaccio troviamo bolle di gas intrappolato di 200 anni fa fino a mille anni fa ma nessuno gira con un ango epidermico per inserire delle bolle di gas nel cuore di vecchi ghiacci. quello che si trova là dentro è la vecchia atmosfera. Si riesce a rilevare esattamente la qualità dell'antica atmosfera. Questo periodo medievale di escalamento è stato portato spesso alla luce ma era solo un fenomeno europeo e non era globale. Qual è la maggiore causa per cui l'uomo ha contributito ad accelerare il CO2 nell'atmosfera? la cosa principale quando avevo nove anni è che la popolazione è passata da 2.99 miliardi a 3 miliardi e nel corso della mia vita è diventata 7 miliardi. Le persone cercano di vivere nel modo in cui ci siamo sviluppati e così bruciamo carbonio mettendo diossido di carbonio ad un ritmo straordinario. signor Mirana c'è un aumento massivo di CO2 nell'atmosfera allo stesso tempo doppio più grande della popolazione del pianeta? Perché non esiste questo collegamento inestricabile? Ce lo spieghi lei? Oh il CO2 aumenta nessuno discute su questo quello che ha fatto Bill Knight è stato far perdere tempo a tutti spiegando che il CO2 aumenta la domanda è che impatto ha il CO2 sulla meteorologia che impatto ha sul cambiamento climatico se guardiamo tutte le registrazioni geologiche vediamo che si sono verificati periodi molto caldi senza il CO2 e periodo gelidi con CO2 elevati e si può tornare indietro su questo ma il risultato è che ci sono centinaia di fatti che dichiarano che il periodo caldo al medioevo era sia al sud che al nord dell'atmosfera nel mio sito web demolisco letteralmente l'idea del bastone da occhi studi di revisione frappari sull'idea che Bill Knight gira attorno dicendo che il CO2 è pericoloso per il riscalamento globale ma nel nostro interesse non lo è sta dicendo che il diossido carbonio può far diventare il pianeta più verde ah questo sì si è capito abbastanza esistono centinaia di pubblicazioni su giornali scritti da fisiologi vegetali quali mostrano che l'aumento del CO2 è di base benefico per tutte le piante che hanno studiato persino per i raccolti qual è il mais il mio parere a lungo termine è che quando realizzeremo che il CO2 si trova nell'atmosfera se ne troverà di più è una cosa buona e considerando il fatto che è necessario per la vita sulla Terra avere il CO2 nell'atmosfera è incredibile quanto poco ce ne sia nell'atmosfera la percezione degli amici qui in New York è che ascoltare questa strana fuoriuscita e tutti gli altri scienziati seri direbbero l'uomo ha prodotto questo lo deve sistemare adesso eh bene odio dirlo ma deve sapere che la caratterizzazione che ne è scaturita è a causa di media intendo persone come Al Gore che ne dipinge persone come me che sono solo una frangia ma infatti non vuole discutere con nessuno ovviamente no considero il mio punto di vista abbastanza come corrente principale ma i climatologi hanno trovato tante persone ho trovato molte persone che sono d'accordo con me ma non possono parlare perché hanno paura di perdere i loro sussidi quello che sente qui secondo me gli scienziati che hanno deciso di mostrarsi pubblicamente sono coinvolti con i politici sta dicendo che è un grosso problema e questo è per prendere denaro e questo è il problema certo il congresso non offre denaro per cose che non sono problemi ma il dibattito è stabilito il cambio climatico è un fatto quando i figli dei nostri figli ci guarderanno negli occhi chiedendoci se abbiamo fatto tutto per farli vivere sicuri in un mondo più stabile con risorse di energia voglio che noi siamo capaci di dire sì l'abbiamo fatto probabilmente avrete già sentito questo prima che tutti gli scienziati credibili seguono il resoconto che l'uomo che crea il cambiamento climatico ma nel canale delle previsioni del tempo indica che gli scienziati non hanno il consenso quando vediamo il governo quando vediamo la NASA le altre istituzioni che dicono che il 97% del clima dove gli scienziati sono d'accordo lei pensa che l'hanno costruito ma vorrei capire come fa a quadrare un momento un momento voglio spiegare questo il governo stanzia circa 2 miliardi e mezzo di dollari solo per le ricerche climatiche ogni anno questo denaro lo stanzia solo per gli scienziati che produrranno risultati scientifici che andranno a supportare l'ipotesi del riscaldamento globale l'intero dibattito che la CNN con il moderatore Mr. Coleman contro l'amministratore delegato del canale meteorologico che è un uomo d'affare non uno scienziato cerchiamo di vedere alcune considerazioni di chi allarma sul cambiamento del clima la domanda è il diossido di carbonio è la causa del riscaldamento globale l'ex presidente Al Gore dice che il diossido di carbonio prodotto dall'uomo crea il riscaldamento globale ma esperti di climatologia incluso Sunichi Akasofo Tim Ball Ian Clark Pierce Coburn Patrick G. Michaels Nir Chaville e Freddy Singer non esistono evidenze che il diossido di carbonio sia il motivo di cambiamento del cambiamento globale della temperatura ma non ho abbastanza pazienza per quelli che negano questa impresa non è vera non abbiamo tempo per un incontro con la società dei fratelli epidemie povertà proliferazione di armi per la distruzione di massa la realtà è il cambiamento climatico si allinea proprio con ognuno di loro nessuna nazione è immune sappiamo cosa dobbiamo fare per evitare un danno irreparabile e per l'interesse delle future generazioni delle nostre generazioni dobbiamo muoverci con patti globalmente per confrontarci con il cambiamento climatico mentre ancora possiamo fare è turbato dall'affermazione che è l'uomo che contribuisce al riscaldamento globale ha scritto una lettera alla UCLA al museo Hammer per il forum chiamato affrontiamo il cambiamento climatico ha detto che non c'erano rappresentanti delle due parti sono qui per dire che l'uomo che contribuisce al cambiamento climatico è un mite cosa mi dice in proposito è molto semplice grazie per avermi nel vostro programma sa che gli scettici sul clima si vedono raramente in televisione fino a quando Al Gorno ha fatto una tavola col partito democratico sta dicendo che sarebbe un cartone di manuto se non credessi in questo eh sì può scommetterci sono stato nell'organizzazione delle news in tv da 60 anni ho incontrato solo due repubblicani in tutta la mia carriera ho tenuto i nascosti nell'armadio e questo è molto forte per le persone che non credono nel cambiamento climatico è difficile per chiunque andare contro questo a causa dei media che raccontano alla nazione ogni movimento ogni momento giorno dopo giorno per 20 anni che gli oceani si alzano che l'orso polare muore che il ghiaccio si scioglie e che gli uregani vanno a spazzare la terra e che tutto morirà per le onde di calore questa è una scienza veramente veramente sgradevole guardiamo avanti alla terra piatta come il sole la luna le stelle funzionano avete domande? potete trovare le risposte giratevi e guardate le parole di Dio la Bibbia iniziate nuovamente dalla Genesi leggete senza pregiudizio come facevamo da bambini capirete che esistono migliaia di persone che si stanno svegliando sulla verità della terra piatta capirete che una volta che conoscerete la realtà una volta che realizzerete vi sveglierete conoscerete le bugie sarete in grado di esporre le menzogne di questo mondo e celebrerete la verità la verità è Dio Gesù è verità Giovanni 14 6 apprenderete che esistono molte menzogne nel mondo e dabbiate discernimento in Dio pregate per questo discernimento ed Egli vi rivelerà la verità vi benedico grazie a tutti